Direi che siamo pronti per cominciare con il webinar di oggi. Benvenuti a tutti a questo webinar dedicato al turismo, ai contenuti e alle email per i viaggiatori di oggi. Abbiamo un ospite d'eccezione con noi oggi, che è Maria Chiara Montera. Ciao Maria Chiara, ci senti? Ciao, buongiorno a tutti. Benvenuta con noi, benissimo, e benvenuti a tutti quanti. Ci presentiamo velocissimamente, io sono Maria Giulia Ganassini e sono content e community manager per Mail App. Mi trovate a questi recapiti qualora avesse bisogno poi di parlare o di chiedere delle lucidazioni anche dopo la fine del webinar. E invece sono appunto oggi con Maria Chiara Montera, che è una ospite di content marketing, ma qui lascio la parola per presentarsi da sé. Buongiorno, allora, sì, sono consulente di content marketing, soprattutto in ambito food e turismo, e ti saluto in questo momento da Torino. Da Torino, eh sì, siamo un amico e una Torino, il bello della tecnologia. Ok, di cosa parleremo nel webinar di oggi? Avremo, scusate, avremo una live session di circa 45 minuti in cui andremo a capire proprio che cos'è il turismo oggi, che cosa è cambiato per le strutture alberghiere e non solo, di tutti gli operatori che operano nel settore. E perché è così importante trovare i contenuti giusti da declinare poi nelle email, ma non solo per saper parlare con il nostro utente a ciascuno step di suo traveler journey, ovvero del suo processo di acquisto e di fidelizzazione nei confronti della nostra struttura. Le prime parti saranno a cura di Maria Chiara e io subentrerò verso la fine per calarci un pochettino di più proprio sul mondo email, nello specifico. Per andare a capire quali sono i sei step di una strategia email efficace proprio per le strutture alberghiere del settore del turismo. Prima di iniziare, due parole, due su chi è MailUp per quelli di voi che ancora non ci conoscono. MailUp è la soluzione numero uno in Italia per fare marketing a livello avanzato utilizzando le email e gli sms. Questi sono i due canali che abbiamo oggi. In realtà, piccolo spoiler, tra poco, tra qualche mese, apriremo la strada dei nuovi canali, che non vi posso anticipare, ma insomma abbiamo grandi novità in cantiere. Insomma, noi offriamo alle aziende piccole, grandi, di ogni dimensione, tutto quello che serve per creare delle strutture e delle strategie avanzate di, appunto, email, sms e marketing. Quindi degli strumenti all'avanguardia di marketing automation, tutto quello che è un mondo di consulenza che serve per creare la soluzione su misura per ciascuna realtà. Perché le aziende non sono tutte uguali, non hanno obiettivi sempre uguali e noi aiutiamo, in questo senso, a creare proprio una soluzione su misura. Siamo poi sempre al fianco delle aziende, dei nostri clienti e non, ovviamente, perché oggi tra di noi, tra il pubblico, non ci sono solo clienti, con un programma di formazione continua, gratuita e di livello, vogliamo credere e ci piace pensare, alto. Per aiutarvi proprio ad avere tutte le nozioni, le best practice e le skill che servono per diventare bravi nel mondo del marketing digitale. A questo è a fianco, ovviamente, tutto il nostro bagaglio di conoscenza sviluppato in 15 anni di know-how. I clienti con cui lavoriamo sono moltissimi, oggi sono circa 11.000, per questo che siamo la soluzione più scelta in Italia. E lavoriamo con tanti anche nel mondo del turismo, ve ne ho riportati solo alcuni, che vanno appunto dal Touring Club, a Blue Vacanze, anche realtà più del mondo travel, come appunto Italo, o Latam Airlines, o Europe Car. Lavoriamo con nomi grossi, nomi piccoli, l'importante è che ci sia alle spalle una volontà di affrontare l'email marketing, l'SMS marketing, con un pizzico di innovatività. Io qui chiudo, anzi no, ti ricordo che abbiamo pubblicato settimana scorsa, giusto giusto, un white paper proprio dedicato al mondo del turismo, in cui andiamo a sviluppare il traveler journey, a spacchettare il traveler journey in tutti i suoi micromomenti, e andiamo a individuare per ciascuno di questi step qual è il tipo di comunicazione email più adatta, quali sono le best practices e come metterle poi a terra, utilizzando anche dei casi studio. Lo trovate a questo bit.ly che vi ho riportato accanto, ve lo ricorderò alla fine della presentazione, in ogni caso lo trovate nell'area risorse del sito di mail app scaricabile gratuitamente. Io ora lascio la parola a Maria Chiara, passandole lo schermo, un secondo che la trovo, Maria Chiara, eccoti qui. Lascio la parola. Ok, benissimo. Allora, come diceva Maria Giulia, durante questa trentina di minuti che passeremo insieme, affronteremo un po' quelli che sono un po' le necessità e i percorsi con cui si costruiscono dei contenuti pensati per il turista di oggi. Queste tre parole, contenuti, persone e tecnologia, sono per mettere l'accento sul fatto che il punto di partenza non è la tecnologia, ma la tecnologia è quell'elemento che non dobbiamo assolutamente perdere di vista quando pianifichiamo sia la produzione, ma soprattutto la distribuzione dei nostri contenuti. Alla fine del webinar vedremo un po' di consigli attuali che ci permettono di capire un po' quanto è importante e quanto è diventata sempre più importante la distribuzione di questi sistemi contenuti. Questo percorso partirà un po' dai dati che scorerò velocemente per arrivare un po' a quello che è il percorso del turista, quindi il Traveler Journey, che riprende un po' il white paper di MailUp per esplodere e cercare di capire per ogni tipo di momento quali possono essere i contenuti migliori, per arrivare un po' a capire qual è il nostro viaggiatore, quindi chi sono i nostri clienti, ma soprattutto a chi vogliamo parlare. Ci saranno un po' di esempi di contenuti pensati per ogni punto del customer journey e alcuni appunto consigli finali. Sulla prima parte, quella dei dati, scorerò molto velocemente, quindi questi dati che poi potrete comodamente vedere a casa sono dei numeri su cui voglio mettere l'accento su due elementi, quindi sono numeri che ci aiutano a capire due cose. Il web non è più un'opzione che possiamo creare nella nostra strategia di comunicazione e anche quindi nella nostra strategia di contenuti. L'influenza di internet e dei social media è aumentata al punto in cui non possiamo più pensare a una strategia che sia solo offline. In più, grazie al web e quindi a questa nuova tecnologia, si è modificata la domanda e il bisogno del viaggiatore in diversi punti del suo percorso d'acquisto. Conoscere questi dati da come naviga a i luoghi in cui naviga ci restituisce delle nuove opportunità di contatto e di fidelizzazione. Ci permette quindi di conoscerlo meglio. Sui dati, appunto, scorerò velocemente anche perché questi sono alcuni report che potete trovare comodamente online. Ogni anno per social e hotsuite pubblicano un report sul digital nel mondo, diviso per paese, quindi dal mondo all'Italia ai diversi paesi. Qui vi ho fornito soltanto alcuni estratti per capire quanto in questo momento incide il mobile, quindi la navigazione per esempio da smartphone, e quanto i social media sono fruiti da mobile. Parliamo di circa 3.000 miliardi di persone nel mondo. Anche qui l'esperienza di acquisto. Se acquista online, questa è una divisione di e-commerce per categoria. Vediamo che la cifra, il budget destinato al viaggio, ovviamente questo a livello globale, si attesta sui 212 bilioni. Questo può essere utile nel capire e modificare quella che può essere una nostra strategia, quindi quanto e quali piattaforme social sono attualmente più utilizzate e più diffuse, da Facebook a YouTube alla messaggistica privata, che infatti poi troveremo soprattutto nel momento della prenotazione del nostro viaggio. Per i dati in Italia, che è un mercato che ovviamente magari in questo momento ci interessa di più, anche qui ritroviamo la stessa incidenza del mobile e quindi la navigazione da smartphone. Vediamo, primo punto, andate sull'analytics del vostro sito e vedete da dove arrivano i visitatori, quali device utilizzano, se navigano a desktop, se navigano da mobile, e in base a quello cercate di aggiustare appunto la vostra strategia. In Italia, per quanto riguarda le piattaforme social, troviamo YouTube al primo posto, i video per primi, e i video sono parte integrante di ogni contenuto che andremo a vedere, in ogni fase del Traveller Journey. Segue Facebook e seguono di nuovo le messaggistiche private. Quindi qui sono alcuni numeri, di nuovo, non ve li leggo tutti, soprattutto perché altrimenti non sono i tempi. Due punti. Questi numeri ci riferiscono una figura in cui il viaggio non comincia dall'agenzia di viaggio, ma comincia dal proprio divano, mentre si naviga da smartphone e si fa tutt'altro. Magari non si sta facendo una ricerca attiva, ma si ha la possibilità di intercettare dei contenuti con cui cominciare a sognare quel viaggio, quella destinazione. E l'altra cosa è che ci fidiamo di chi come noi, l'importanza delle recensioni, che ritroveremo. Ci fidiamo soprattutto di persone che hanno già visto quel posto, che hanno già visitato quella destinazione e che pertanto sono nostri pari o che ci assomigliano. Il passaparola quindi diventa un punto fondamentale di ogni strategia dei contenuti. Il millennial forse è quella persona che in questo momento ci interessa, forse un più intercettare per capacità di spesa. Quindi parliamo di quelle persone che sono nate tra i primi anni 80 e inizi del 2000. Queste persone che può essere più interessante di altri conoscere e che ci resistono anche qui. Un panorama in cui i social come Facebook e Instagram sono usati moltissimo per cercare ispirazione, che si aspettano che brand siano conversazionali. Questa modalità di entrare in relazione con un'azienda è qualcosa a cui più o meno tutti quanti abbiamo o stiamo facendo l'abitudine. Quando parliamo con un'azienda che sia un'agenzia, che sia un ADM o che sia un hotel, ci aspettiamo di parlare con qualcuno che è umano, quindi che utilizzi un tono di voce e delle modalità che siano altamente relazionali. E' qualcosa che qui nel corso degli ultimi anni ci siamo abituati e ci aspettiamo di trovare nel momento in cui interagiamo sui social, sul sito o nelle mail. Quindi un tono di voce più relazionale. Una cosa che è importante vedere nel momento in cui andiamo a costruire la nostra strategia dei contenuti sono anche i trends. Ovviamente sono dei trends che noi possiamo cercare da ricerche online. Questo è lo studio di booking del 2017. Possono non entrare moltissimo nel nostro territorio, per esempio, ma possono essere uno spunto per sia strutturare il prodotto ma anche per costruire dei contenuti. Pensiamo all'importanza del settore wellness o a quante persone cercano dei viaggi con l'obiettivo di fare una vacanza legata al benessere. O dei contenuti che possono essere dei migliori contenuti per il tuo soggiorno, i migliori consigli per il tuo soggiorno all'insegna del benessere, quindi delle mappe dei centri spa intorno alla tua struttura. Ma anche per strutturare dei servizi e qui ritorniamo a pensare un attimo al millennial come dei router portatili personalizzati da usare durante la vacanza. Soprattutto perché se vogliamo che producano delle recensioni o dei contenuti social non li vogliamo assolutamente disconnessi queste persone. Quindi questo potrebbe essere un'idea. O anche l'offerta enogastronomica. Paradossalmente questa ricerca a livello mondiale ci dice che due persone su tre hanno la motivazione enogastronomica come motivo del viaggio. Noi in Italia sottostimiamo moltissimo questa carta enogastronomica, mentre in realtà potrebbe essere anche qui un driver di contenuti, pensando ai consigli da dare ai nostri viaggiatori a seconda dei bisogni che hanno. E ancora, ancora, ancora viaggi avventure, viaggi per soli donne, questi sono altri trends. Cerco di chiudere questa parte dicendo che questa frase in cui le persone non cercano più una destinazione ma un'esperienza. questo fatto dell'esperienza che in alcuni magari non è sempre cristallina come definizione. O anche ci viene da chiederci se i nostri genitori che hanno fatto il viaggio di nozze a Venezia non cercassero un'esperienza. Certo, la cercavano, però vuol dire ragionare su come le persone in questo momento sono abituate a strutturare le loro scelte in base a dei bisogni che avvengono molto prima dell'esperienza stessa. Vuol dire quindi per delle aziende forse in maniera relazionale nella comunicazione sui diversi canali trovando degli argomenti sia per farci apprezzare e scegliere e poi acquistare. Significa creare da creare dei contenuti per creare delle aspettative realistiche da subito online. Cioè il desiderio del viaggio deve avvenire dal primo momento in cui io intercetto una foto, un testo, un contenuto, un video e poi da lì una volta che sono stato catturato voglio essere portato lungo un percorso che mi porta all'acquisto. Qui vado molto velocemente proprio perché appunto questi slides li troverete a casa quindi potete leggere con calma. Ma voglio arrivare giusto a questo cioè sulla personalizzazione dell'esperienza turistica lo troveremo poi nella fase di preutazione però di nuovo le persone vogliono conversare con i brand nel momento in cui converso mi aspetto di essere conosciuto mi aspetto che qualcuno mi rivolga delle offerte delle proposte dei contenuti che siano tagliati su di me e sui miei bisogni e questo in linea di massima ma a maggior ragione nel momento in cui appunto vivo questa esperienza. Fattore umano chiunque lavori nell'accoglienza lo sa la persona che accoglie il turista alla reception la persona che lavora nel centro informazioni e dà delle informazioni su ristoranti o itinerari o altro quelle persone sono la faccia che il turista prova con cui conversa con cui entra in relazione ed è uno dei momenti più delicati e quindi anche uno dei rischi dei momenti più rischiosi in cui si gioca la relazione tra il turista e la destinazione o l'hotel o altro quindi se il fattore umano è importantissimo e imprescindibile offline a maggior ragione lo sarà anche online quindi il fattore umano è importante anche sul vostro sito anche nelle vostre mail in ogni momento della vostra comunicazione soprattutto perché le persone come turisti hanno questa brutta abitudine che vogliono conversare soprattutto nel momento in cui devono eseguire una transazione economica e devono essere rassicurati del fatto che stanno investendo un budget in un posto in una destinazione in un hotel che gli garantisce quello che le aspettative gli hanno permesso ok solo web sorvoliamo perché parla di nuovo appunto delle recensioni quindi ma anche qui ve la lascio leggere comodamente a casa perché vorrei arrivare dal Traveler Cast per giorni quindi a quel percorso che il turista fa dal proprio divano all'acquisto o dal proprio divano sono fissata col divano a una conversione che può essere l'iscrizione alla newsletter che può essere la visita al sito che può essere un'azione di valore il viaggio comincia dalla scoperta e si tramuta appunto in una relazione che non è soltanto tra il turista e il luogo che ha visitato i ricordi l'esperienza sul posto il feedback le recensioni ma è una relazione anche tra voi e il viaggiatore stesso quindi disegnare questa mappa del Traveler Cast per giorni all'obiettivo di aiutarvi a capire quali sono i contenuti più rilevanti per intercettare determinate persone in determinati momenti ci sono le Traveler giorni più semplici altri più complessi quello del turista e spesso digitale disegnare questa mappa che immagino che è qualcosa che abbiate già fatto ma magari può essere qualcosa che potete fare ogni tot perché si aggiornano le tecnologie si aggiornano i bisogni si aggiornano le destinazioni vi aiuta a rappresentare la storia della relazione tra il cliente e voi nel corso del tempo e nei diversi canali di contatto in questo caso abbiamo parlato tanto di web ma va sempre ragionato come un mix di online e offline soprattutto perché uno dei punti su cui non bisogna cadere è la coerenza quello che il tuo turista trova sul sito lo deve trovare alla reception quello che il turista trova nelle mail lo deve trovare nella sua camera d'albergo promettiamo dobbiamo mantenere creiamo delle aspettative dobbiamo realizzarle e questo in ogni punto ovviamente non tutto è controllabile se la persona perde l'aereo arriverà ovviamente più nervosa nel nostro albergo però tutto quello che riusciamo a controllare dovrà essere un unico percorso disegnato obiettivo dopo obiettivo anche qui vado abbastanza velocemente il percorso che abbiamo visto con già nel white paper è quello del sogno della pianificazione della prenotazione dell'esperienza e poi del post vendita nel momento in cui il nostro turista ancora non ci conosce e non sa quale sarà la sua prossima meta i contenuti che vanno pensati in questo punto sono di assoluto coinvolgimento devono emozionarlo devono ispirarlo andremo a vedere poi alcuni esempi fatti benissimo nel momento della pianificazione ha deciso la sua meta ha deciso di arrivare in quel territorio non ha ancora prenotato non conosce ancora la sua struttura in questo momento il nostro viaggiatore ha bisogno di contenuti che permettono di anticipare l'esperienza cosa mi aspetto nel momento in cui arrivo cosa posso fare una volta sul posto esiste una struttura che ha un'offerta migliore di un'altra e a parità di offerta o con offerte differenti verso cosa posso orientare la mia scelta altre persone sono già state in quel posto posso fidarmi delle loro recensioni questi sono dei contenuti che vanno appunto pensati e promossi per questa particolare fase nel momento della prenotazione di nuovo rischiamo di perdere il nostro turista nel momento in cui ha detto ok prenoto in quell'albergo oppure visito quel paese è un comportamento in questo momento che può essere impulsivo o che può essere effettuato in un momento in cui il nostro turista è nel proprio ufficio ma ha deciso comunque di partire vuole velocizzare l'acquisto nel modo più veloce possibile in questo momento la tecnologia è quella che ci deve essere di assoluto supporto e a supporto della velocizzazione dell'esperienza e delle rassicurazioni da offrire al nostro turista nel momento dell'esperienza quindi quando la persona ha lasciato la propria parte la propria porta di casa e arriva nella nostra struttura o arriva nel nostro hotel o raggiunge il posto che ha prenotato in questo momento i contenuti che dobbiamo pensare sono quelli che permettono al nostro turista di costruire un viaggio su misura ma anche di interagire sul posto banalmente con pagine social di ristoranti e attività con orari aggiornati e informazioni di contatto questa è proprio la base la base che però in molti non hanno ancora attivato proprio magari si pensa che la persona che è sul posto sia una persona diversa da quella che sta vivendo l'esperienza la persona che ha bisogno di cenare non ha tantissimo tempo per pianificare quindi di nuovo rispetto a tre pagine facebook di ristoranti o di esperienze di intrattenimento durante il suo viaggio sceglierà quella che ha tutte quante le informazioni di contatto perché non ha tempo per effettuare altre ricerche non siamo più nella fase della pianificazione in cui si è tranquillamente di nuovo sul proprio divano a potersi permettere o ad avere tempo per confrontare le vostre esperienze servono dei contenuti con cui è immediato interagire post vendita una volta che il nostro turista ci ha lasciato quali azioni e contenuti lo faranno tornare e soprattutto cosa lo farà a condividere quello che ha vissuto in questa fase i contenuti da pensare sono questi ora prima ancora dei contenuti noi con chi stiamo parlando il turista è il turista ma chi è una frase bellissima secondo me è che le personas non sono dati demografici le personas sono quelle che sono l'identikit del nostro cliente è un termine marketing ma poi lo troverete un po' dappertutto diciamo che è diventato un argomento facilmente trovabile anche su internet ci permette di costruire l'identikit del nostro cliente quando parliamo infatti di contenuti parliamo di persone e dei loro bisogni cioè quando andiamo a costruire una buona strategia dobbiamo assolutamente pensare prima di ogni cosa chi includere ma anche chi escludere molto spesso trovo un errore che è quello di parlo a più persone possibile perché così ho più possibilità di scelta e di conseguenza avrò più possibilità di essere intercettato quindi non prendo una posizione non utilizzo un tono di voce che sia propriamente mio ma rimango generico in realtà il rischio che si corre in questo caso è quello di non andare a definire delle persone con cui andare a parlare e quindi non capire i bisogni che queste persone hanno se io non vado a risolvere dei bisogni non avrò meno possibilità di attrarre l'attenzione di queste persone perché non sarò rispondendo a nessuna domanda qui come andiamo a individuare le nostre persone in realtà abbiamo tantissimi dati ovviamente se non siamo appena nati se siamo appena nati possiamo basarci su delle ipotesi o prendere delle scelte se abbiamo un'attività che è attiva da un po' di anni abbiamo dei dati che ci possono aiutare chi sono i nostri chi sono stati i nostri clienti fino ad adesso quale persone ci visitano sul sito facebook audience insights è un tool di facebook non si chiama tool ma passatemelo in cui voi potete andare a caricare il database dei vostri clienti creando un pubblico customizzato per capire quali sono i loro interessi per capire quali sono le pagine che visitano per capire che lavori fanno sono tutti quanti dati che ci permettono di costruire un identikit più completo le persone che stanno al customer service ricevono miliardi di domande e alcune di queste domande che possono essere le più banali per chi fa per chi è dentro l'attività da anni non sono per niente scontate per la persona che non ha mai visto quel posto che non ha mai fatto quell'esperienza quindi anche le domande più semplici vanno tenute in considerazione perché sono quelle prime domande che a quel cliente deve ottenere una risposta immediata per diradare un po' la scelta i dati del nostro database da dove arrivano che lingua parlano che età hanno possiamo andare un po' a fare gli stalker di google quindi cosa dicono le persone di noi quali sono i nostri vantaggi ma anche quali sono i nostri punti critici se ne abbiamo in qualsiasi modo dobbiamo intervenire sia affattivamente che nella comunicazione oppure facendo delle interviste ai clienti o che contatto con loro in questo modo raccogliamo una mole di dati che ci aiuta a costruire questi identikit in cui andiamo a definire una serie di aspetti di questa persona che possono essere il profilo l'età il sesso le aspettative dove naviga online quali altri siti vede usa uno smartphone non usa uno smartphone cosa vede ogni giorno quali bisogni posso risolvere un consiglio se siete un'attività piccola piccola ne basta uno ok quindi costruite una sola persona se siete un'attività più grande potete costruire diversi profili ma non cento di nuovo perché se no si rischia di andare nell'impasse di cui parlavamo prima cioè parliamo a tutti invece dobbiamo parlare soltanto a certi profili di persone quello che ci serve è costruire questi identikit è guidare il tono di voce e la sostanza dei contenuti capire a quali bisogni dobbiamo rispondere ma anche quali sono i punti di i bisogni di chiarezza a cui possiamo fornire un feedback possiamo capire per esempio dai siti e dai blog che naviga quali sono gli influencer e gli stakeholder di riferimento delle nostre bonus per coinvolgerli nella nostra magari attività di distribuzione dei contenuti ok sto andando troppo veloce ma è per arrivare un po' a toccare tutti quanti i punti adesso andiamo un po' nel vivo della situazione quindi una volta parlata di tutta la teoria andiamo un po' a vedere delle best practices degli esempi con delle premesse non esistono dei contenuti migliore degli altri non esistono video testi infografiche e foto che siano migliori di altre se dei video con dei droni fatti ad altissima risoluzione possono andare bene per una destinazione dei video più familiari e fatti con una qualità che non è eccelsa possono andare benissimo per un'altra struttura o per un'altra azienda perché appunto rispondiamo a bisogni diversi e attraiamo l'attenzione di persone diverse i contenuti quindi ci servono per attraire persone installare fiducia attirare la loro attenzione e quindi generare un'azione di valore che può essere alla fine prenotazione o vendita i contenuti di massima ti distinguono tra tre tipi di contenuti quindi quelli prodotti dell'azienda i vostri blog sito account social messaggistica quelli gestiti da voi interamente quelli selezionati da voi quindi quelli che altri producono come altri siti altri blog altri account social e curati da voi come selezione in ultimo contenuti generati dagli utenti user generated content quindi i contenuti prodotti da turisti visitatori o altre persone che consistono in recensioni foto e posto sul blog quindi andiamo a vedere ad esempio dei contenuti lungo il travel customer journey iniziamo dal primo percorso che è quello del sogno anche qui non li vedremo tutti quanti ma di molti troverete i link per andarli a visionare direttamente online questo video per esempio non lo vedremo ma vi consiglio caldamente andarla a vedere online perché è molto bello questo video ed è in Bologna che è stato promosso da Bologna Welcome questi sono alcuni numeri sul perché il video ha funzionato è un contenuto di 2 minuti e 13 secondi che mostra le attività della città di Bologna una cosa è adatta al web e soprattutto mette in gioco le attività e le persone che sono identificative della città facendo leva su contenuti emozionali di nuovo l'esempio di prima un drone può andare benissimo per alcune destinazioni magari particolarmente panoramiche o non lo so sto pensando all'Islanda in questo momento in una città che è più piccola è più raccolta e che basa anche molto dei suoi dei suoi contenuti promozionali sul carattere delle persone un video come questo mostra le persone che i turisti si aspettano di incontrare quindi è pensato bene in questo attività questo ve lo segnalo perché ero sul divano ecco stavo navigando ho intercettato questa sponsorizzazione su Instagram della Val Gardena che riporta un contest dove ci sono dei locals quindi le persone del posto che sono state intervistate dei professionisti e che mostrano le varie attività e le varie facce e l'anima della Val Gardena vuole intercettare quelli che sono i micro momenti quindi quei momenti è una definizione di Google qui trovate il video dove lo spiega molto bene e sono quei momenti trascorsi online dove le persone passano da uno schermo a un altro da un'attività a un'altra e che identificano i momenti in cui vengono prese delle decisioni dalla navigazione su Instagram in cui non mi aspettavo di trovare un contenuto sono stata attratta dalla Val Gardena nel momento in cui vado sul sito rimango a navigare sul sito e conosco quella destinazione questo ve lo segnalo come per quanto riguarda la distribuzione parliamo di post e foto prodotti dai travel blogger in collaborazione con destinazione strutture travel blogger sono persone che hanno un blog e che pubblicano contenuti inerenti a viaggi viaggi consigli di viaggio trucchi per viaggiare low cost meglio con la famiglia eccetera questi sono quattro travel blogger italiani tra quelli che io amo di più che collaborano con diverse DMO con diverse strutture e che hanno un vantaggio che è quello di non soltanto produrre dei contenuti di assoluta qualità ma anche quello di avere un audience molto attiva dove distribuire questi contenuti un'azienda può produrre dei contenuti bellissimi meravigliosi e favolosi ma se non ha una modalità di distribuzione che in questo momento può essere una sponsorizzazione su Facebook o un'attività di SEO sul proprio sito quei contenuti rimangono chiusi nel cassetto i travel blogger possono essere una delle risposte a questa necessità abbiamo i contenuti creati dai nostri turisti ma come li utilizziamo nel momento in cui trovo delle recensioni cosa posso fare questo è un contesto ovviamente si ragiona in molto in grande si chiama Sognando la Telandia coinvolge la destinazione coinvolge una compagnia di assicurazione coinvolge Human Safari che è uno dei travel blogger più quotato in questo momento e per vincere il contest si basa appunto sui contenuti coinvolti dall'utente che rassicurano molto la persona che vuole andare in quella destinazione arrivo su questo sito dell'Atalandia non so niente vedo le persone che hanno già effettuato quel impagio leggo dei conti entusiasti mi decido a partecipare al concorso o a prendere in valutazione l'Atalandia come possibile destinazione secondo momento pianificazione quindi il momento in cui ok ho deciso dove andare voglio confrontare le varie offerte che trovo e tra le varie offerte sarò direzionata verso qualcuno che mi rassicura offre una delle aspettative su quella che sarà un'esperienza migliore del mio viaggio questo è l'esempio del kinton hotel non ricordo dove sia ah no diverse sedi questo il sito dell'hotel ha un blog all'interno che promuove la discovery di esperienze cioè permette di riccare paese per paese quali sono le esperienze che posso andare a fare in quella città da qui quando arriverò in quell'hotel mi troverò delle persone che sapranno ulteriormente aiutarmi nella mia esperienza del viaggio da qui a prenotare è un po' più facile vado velocemente Airbnb guardatelo spesso e volentieri perché è uno delle società che fa content marketing nella maniera più efficace qui si tratta di continui cocareati con i host dei quartieri sul sito cerchi Roma ti puoi scaricare delle guide ai quartieri generate e cuceriate dagli host quindi consigli dei local quello che di nuovo i millennial e non solo ricercano ecco sui siti nessuno più è un'azienda leader ecco cerchiamo di non essere un hotel leader e quindi di curare moltissimo moltissimo i testi perché sono quelli su cui il turista si ferma quando ha la possibilità di fermarsi quando cerca una struttura questo è un hotel Ligure dove ci sono dei testi che nessuno si aspetta c'è anche un po' l'effetto sorpresa sempre nella fase di pianificazione di nuovo un blog un sito di destinazione che è quello di Visit Copenhagen con un blog per pianificare a seconda dei propri interessi fatto benissimo sempre nella fase di pianificazione un esempio che io trovo incantevole che è quello di Visit Norway è un video con delle testimonianze dei turisti che si trovano a esplorare le montagne della Norvegia quindi raccontano qual è stata la loro esperienza ed è un contenuto che intrattene moltissimo tutto perché è molto eronico fa molto ridere e non si sa perché ma a noi non ci piace far ridere non so se avete visto l'ultima campagna dell'Australia quella in cui c'è il finto Mr. Coccodile Dandy che va a un'Australia che è stata presentata durante il Super Bowl è super eronica e quindi perché non utilizzare un tono di voce perché magari è quello per il nostro target adesso corro un po' di nuovo questa è la possibilità dei nostri turisti di vedere un po' quello che si aspetta quindi utilizzare dei video a 360 gradi per mostrare i nostri contenuti la possibilità di far comparire delle recensioni direttamente tra la nostra pagina Facebook per eliminare appunto un po' di infrezioni nella fase della prenotazione vera e propria parliamo di nuovo di piattaforme di messaggistiche istantanea per esempio quella di Skyscanner che non soltanto offrono aiuto sulle prenotazioni di voli e hotel ma per quello a cui non sa rispondere fornisce risposte alle FAQ e fornisce ispirazioni quindi posso prenotare ma posso di nuovo cercare delle ispirazioni per i viaggi questi sono alcuni esempi di chatbot quindi della messaggistica automatica integrata nelle pagine Facebook Messenger o Slack con cui andare a conversare fatelo come prova molto bello perché sembra di parlare con qualcuno di umano infatti molti combinano anche appunto l'intelligenza artificiale con un vero e proprio servizio clienti sempre della prenotazione poi quando parlavamo di online offline vi consiglio andare a vedere il sito di Promenade Bologna dove ci sono dei contenuti co-creati e soprattutto c'è un utilizzo molto 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 intelligente di diverse tipologie di contenuti on e offline l'esperienza di cui parlavamo prima abbiamo parlato di customizzazione dell'esperienza di personalizzazione in the know degli Virgin Hotel permette di far compilare un questionario ai propri viaggiatori che hanno prenotato indicando delle preferenze su allergie minibar cocktail che poi questi turisti troveranno nella propria camera d'hotel o anche gli account Instagram come Visit Brescia che utilizzano del user generated content ma soprattutto danno la possibilità al turista di scorrere il feed e di conoscere eventi mostre in corso a cui poter partecipare una volta che il nostro turista è andato via cosa facciamo? come facciamo a farlo ritornare? un'idea può essere quella dell'Ous Hotel e della sua campagna Travel for Real l'hotel ha suggerito alle persone di scattarsi una foto nelle proprie camere o comunque nei propri tel ha stampato le migliori foto sulle keycard delle stanze e in questo modo danno il via a una pubblicazione su social da parte di queste stesse persone che attestavano il soggiorno in quell'hotel quindi è un modo per stimolare delle recensioni qui mi ci metto io sono l'esempio del mio host di Airbnb che un anno dopo il mio soggiorno nel suo appartamento mi ha mandato una mail per dirti guarda un anno prima hai soggiornato nel mio appartamento posso darti la priorità ti interessa ed è qualcosa che in realtà avviene molto poco negli hotel soprattutto in occasione di fiere ed eventi dove le persone tornano e sono abbastanza abitudinarie rispetto ai luoghi dove soggiorno ok perfetto è stata chiarissima direi che abbiamo fatto una carrellata molto veloce però poi ci sarà tempo per chi ha partecipato di guardare tutto attraverso le slide allora io mi riprendo il controllo delle slide e vi chiedo aspetta schermo ok mostriamo questa finestra ok siamo è il mio turno confermatemi per favore Maria Chiara confermami tu via audio diciamo che si vedano le slide vedete le mie slide perfetto ok allora entriamo nel merito proprio della strategia email invece perché i contenuti che vi ha fatto vedere Maria Chiara sono di diversa natura abbiamo visto email newsletter abbiamo visto sito abbiamo visto social media ma quali sono i sei step fondamentali per creare questa campagna le campagne efficaci via mail l'obiettivo che dobbiamo sempre ricordare è che ci conviene di più trattenere e fidelizzare un contatto acquisito rispetto che acquisirne uno nuovo acquisire i nuovi clienti costa denaro e fatica quindi l'email e la marketing automation ci aiutano in quella che è il difficilissimo compito di costruire una relazione a lungo termine con ciascuno di questi ospiti per favorire la ripetizione della prenotazione per appunto non andare a investire tutte le volte nella ricerca di un nuovo cliente ma per trattenerlo e riportarlo sulla via della prenotazione più a lungo possibile in questo modo capitalizzando l'investimento iniziale fatto in fase di acquisizione la strategia che cosa prevede naturalmente di avere dei dati relativi ai nostri clienti abbiamo parlato prima con Maria Chiara della definizione della buyer persona ovvero di quello che è il nostro identikit del cliente tipo possiamo farlo dobbiamo farlo partendo da come dire appunto un identikit disegnato ma questo identikit deve essere corroborato dai dati che noi possediamo sui nostri clienti che facciamo ad avere questi clienti li dobbiamo trovare e li dobbiamo raccogliere da piattaforme diverse mail app può essere integrato con tanti tipi di piattaforme e di sistemi diversi in questo modo mettendo in collegamento i dati che vengono raccolti per esempio sul web o per esempio sul booking engine se voi avete un sito con un sistema di prenotazione tutti quei dati che vengono raccolti dal booking engine possono essere messi in collegamento con la piattaforma mail app in modo poi da poter creare delle campagne email che non siano uguali per tutti ma che siano basate specificatamente sul comportamento e sullo storico di ciascun singolo cliente oppure ospite e stesso modo del booking engine possiamo collegare mail app con i social media o con l'e-commerce o per esempio ancora con il cms ovvero la piattaforma il back end diciamo il content management system oppure possiamo ancora creare delle delle integrazioni ad hoc per qualunque sia il vostro sistema in modo di permettere ai dati di parlare tra di loro qual è l'obiettivo di far parlare i dati raccoglierli in modo poi da creare dei cluster su cui creare su cui andare a battere con delle campagne email specifiche emerate perché ricordiamoci sempre che l'email marketing massivo funziona fino a un certo punto funziona in maniera molto poco molto limitata l'obiettivo deve essere sempre quello di cercare di creare una relazione personalizzata e veramente rilevante con ciascuno dei nostri destinatari in maniera ovviamente automatica non a manina perché non sarebbe fattibile quali sono quindi i dati che noi possiamo raccogliere sui nostri clienti possiamo raccogliere i dati demografici per esempio che sono relativi quindi per esempio al sesso all'età alla città da cui vengono al loro stato familiare se sono dei single piuttosto che delle coppie sposate magari figli quanti figli possiamo andare a raccogliere le abitudini d'acquisto e questo viene questo tipo di dato viene raccolto tipicamente appunto dal booking engine o dall'e-commerce che abbiamo sul sito quindi possiamo andare a sapere quali sono i prodotti o i servizi che acquista ogni quanto acquista oppure per esempio se è un utente che ha acquistato un tempo fa ha fatto una prenotazione e poi è diventato un dormiente diciamo così oppure proprio qual è il suo comportamento cioè quanto è lungo il suo processo d'acquisto è una persona che arriva sul sito e bam in un giorno conclude la prenotazione oppure ha bisogno di un tempo più lungo quindi avrà bisogno magari che andiamo a ricordargli il fatto che ha iniziato il suo processo per portarlo di nuovo a tornare a noi possiamo sapere le sue preferenze questo possiamo saperlo per esempio integrando un analytics o un sistema che tracci il traffico sul sito al sistema di mail marketing per cui potremmo sapere per esempio quali sono le lezioni del sito che va a visitare se quelle relative agli sport o alle strutture non so la piscina che possiamo offrire oppure se va a cercare sul sito se vengono accolti gli animali qual è la polisi degli animali possiamo lavorare email su email per capire qual è la reattività del destinatario alle nostre comunicazioni è un destinatario che legge oppure che è iscritto ma non apre mai legge solo le email o legge anche gli sms che gli mandiamo è reattivo per esempio ai coupon se facciamo una campagna email che contiene un coupon sconto lo utilizza tutte queste informazioni possono essere raccolte abbastanza agevolmente dalla piattaforma di email una volta che abbiamo raccolto questi dati andiamo a creare dei cluster che ci serviranno per targettizzare le campagne email abbiamo raccolto i dati demografici quindi sappiamo se i nostri utenti sono uomini donne di che età da dove vengono eccetera eccetera andremo a creare delle campagne email targettizzate per esempio sui viaggiatori giovani oppure sulle famiglie con figli è evidente che il tipo di messaggio di interesse per queste due categorie macro categorie è differente non sono come dire sensibili allo stesso tipo di stimolo oppure andremo a targettizzarli per esempio su delle offerte che partono da specifici aeroporti perché sappiamo che sono di quella zona e quindi ci sarà un'alta probabilità di conversione oppure al contrario potremo escluderli dal località se io sono di Milano non mi interessa niente probabilmente ricevere delle offerte sugli hotel di Milano perché ci abito già quindi potrò andare a escluderli sulle abitudini d'acquisto si possono fare cioè qua si apre un capitolo gigantesco su cui si potrebbero fare webinar su webinar però è importantissimo conoscere queste abitudini per poi andare a targettizzare in maniera diversa per esempio i clienti ricorrenti quelli che sono già fidelizzati a cui potrò andare a proporre determinati contenuti differenti invece sono per esempio i clienti one off che hanno prenotato una volta ma non sono fedeli sono abbastanza dei farfalloni magari prenotano anche altrove quindi dovrò recuperarli e loro probabilmente saranno magari più più sensibili a una leva di tipo economico potrò provare con lo sconto per esempio posso andare a sapere se sono alto basso spendenti e in questo modo proporre delle offerte su delle strutture che rispondono a questo tipo di scontrino medio non andrò a proporre un 5 stelle a una persona che so che prenota in media guardando stando molto attento il budget e viceversa oppure posso andare a capire se richiedono questi clienti richiedono dei servizi premium per andare a battere su quel chiodo ti offro in più se prenoti ti offro in più per esempio l'accesso gratuito alla spa oppure la cena con lo chef stellato in un'atmosfera esclusiva e così via le preferenze se sono amanti del golf gli manderò una mail che contiene degli approfondimenti su di quello se invece so che sono degli appassionati di enogastronomia potrò fare degli approfondimenti sui vini della zona piuttosto che sulle specialità gastronomiche e così via e poi appunto sulla reattività ho dei lettori assidui potrò provare una comunicazione un pochettino più spinta diciamo così un pochettino più aggressiva anche dal punto di vista magari commerciale se invece sono lettori che non leggono mai non aprono mai le mail dovrò provare una strategia diversa se volete poi trovate per esempio sul nostro blog degli approfondimenti sulle campagne di riattivazione che sono importantissime proprio andare a recuperare quegli utenti che sono iscritti ma non reagiscono e non interagiscono con le mail e così via una volta che ho creato questi cluster che cosa faccio? Devo andare a creare delle comunicazioni specifiche per ciò su un cluster vedete queste due comunicazioni che vi ho messo qui sono fondamentalmente la stessa email però con una variabile l'immagine è diversa vedete che quella di sinistra ha un'immagine che sarà molto più appealing per i viaggiatori giovani magari diciottenni neodiplomati neolaureati che vogliono una vacanza divertente al mare e dall'altra parte invece un'immagine che istintivamente avrà molta più presa su le persone che magari hanno dei figli piccoli quindi cercano un tipo di vacanza completamente diverso è l'unica variabile di questi mail l'immagine e vedete che differenza può fare ma la cosa bella la cosa bella è che con il nostro editor B questa tipologia di variazione non deve essere fatta a mano ma può essere fatta in maniera automatica dinamica più che automatica mettiamola così utilizzando dei contenuti dinamici che cosa vuol dire che all'interno di quel contenuto io inserirò dei filtri e dirò se il mio destinatario appartiene alla categoria al cluster viaggiatori giovani inserisci automaticamente l'immagine con il mare di Ibiza se invece appartiene al cluster famiglie con figli inserisci un contenuto un'immagine che chiami più la famiglia queste sono delle impostazioni che vanno fatte a monte ma poi la piattaforma va automaticamente a riconoscere se è impostato correttamente ovviamente cioè se abbiamo questo dato recuperato dalla fonte diversa dalla piattaforma come dicevamo al punto 1 riconosce automaticamente la diversità l'appartenenza a diversi cluster e dinamicamente personalizza l'email per essere il più rilevante e il più targettizzato possibile questo si applica anche vedete cerchiato con il rosso ai campi testuali possiamo inserire il nome proprio della persona per esempio possiamo inserire un testo differente per Carlo che sarà magari un diciottenne appena diplomato che vuole andare in vacanza con gli amici inseriamo un'offerta per Ibiza per Carlotta che invece è una mamma con due figli piccoli offriamo un'offerta per la Provenza questo è importantissimo e ci consente di evitare di andare a colpire un target come quello per esempio dei viaggiatori giovani con un'email completamente fuori contesto che gli parli di strutture family friendly o adatte ai bambini piccoli perché quella sarà una comunicazione completamente sprecata se non controproducente perché automatizzare le comunicazioni automatizzare le comunicazioni sembra un qualcosa di difficilissimo la marketing automation tanti pensano che sia un qualcosa riservato a delle multinazionali che hanno un budget incredibile che hanno dei team dedicati in realtà è una buona pratica facilmente implementabile sulla base di determinati requisiti che devono essere ovviamente a cui bisogna dare risposte il primis quello dell'integrazione che consente di risparmiare un sacco di tempo nella creazione dell'email perché nella creazione e nell'invio dell'email perché si smette di creare manualmente tante varianti della stessa email per andare a identificare manualmente lo stesso target target diversi chiedo scusa rendendo questa un'operazione completamente automatica e in questo modo possiamo personalizzare la relazione in un modo che sarebbe altrimenti impensabile con le mail inviate a mano in questo modo in ultima analisi aumentiamo il ritorno sull'investimento delle mail perché la tempestività giusta il contenuto giusto e la paghetizzazione giusta consentono di inviare solo le mail che hanno una buona probabilità di essere poi di portare poi a una conversione alla fine quali sono le possibili campagne automatiche che possiamo che possiamo impostare non soltanto una targetizzazione dinamica come abbiamo visto prima ma delle vere e proprie campagne che partono in base a degli eventi o a delle azioni del nostro destinatario quella più classica e una delle più semplici è la campagna automatica di benvenuto che risponde a un trigger a un innesco che è l'iscrizione alla newsletter per esempio oppure l'iscrizione al sito e fa partire in autotico una mail o più email in cui si dà il benvenuto all'interno insomma al sito o a quella che è la struttura e si forniscono dei contenuti che servono a introdurre alla fruizione del sito o a spingere le conversioni un altro tipo di campagna automatica molto efficace è di reminder vedete quella di booking.com come fa a mandarmi un'email automatica semplicemente ha collegato il suo booking engine per cui sa che io ho prenotato per tale giorno in tale destinazione ci sarà una condizione automatica che dice sette giorni prima della partenza della data di prenotazione fa partire un'email di reminder che contenga i dettagli del viaggio che si sta per compiere e qualche link utile la terza di Airbnb è un'email di feedback anche qui si baserà sulla data presente che deve essere appunto un dato conosciuto alla piattaforma di email marketing deve essere recuperato tramite un'integrazione la data del soggiorno e verrà impostato un automatismo per cui per esempio il giorno dopo due giorni dopo tre giorni dopo la fine del soggiorno viene automaticamente inviata un mail che richiede un feedback Airbnb lo fa molto bene personalizzando anche appunto il nome dell'host che mi ha ospitato e poi manderà dei reminder ora io non compili subito il feedback ce ne si sarà un'altra mail il giorno dopo ancora e qualche giorno ancora in modo da massimizzare la probabilità di ricevere questo feedback con mail app costruire dei flussi automatici è facilissimo adesso avete tutti la possibilità di iniziare una prova gratuita con mail app per 30 giorni di entrare e di vedere cosa succede è un sistema drag and drop cioè semplicemente a trascinamento non serve nessuna conoscenza tecnica che consente di creare veramente un flusso lineare di inneschi tempi di attesa e azioni da compiere per impostare tutto l'automatismo step dopo step e poi l'ultimo step fondamentale che purtroppo tantissimi si dimenticano troppo spesso che è quello del monitoraggio dei risultati e dell'ottimizzazione tutto questo che abbiamo detto fino adesso è praticamente inutile se poi voi non andate a vedere come si sono comportate le email non fate degli a b test frequenti e non andate a ottimizzare in base a quello che vedete essere i risultati quindi andate sempre a controllare come si stanno comportando le email sul tasso di apertura sul tasso di click sul tasso di bounce ovvero di email ritornate sul tasso di disiscrizione se abbiamo un numero di disiscritti troppo alto stiamo facendo qualcosa di sbagliato e poi ovviamente il tasso di conversione che deve essere monitorato su analytics sui vostri analytics per vedere quello quanto il ritorno economico se l'obiettivo è proprio una prenotazione o l'acquisto di un servizio ci ha portato quella specifica campagna le performance del settore turismo potete trovarle le vedete qui all'interno del nostro osservatorio l'osservatorio statistico è uno studio che noi facciamo come mail app una volta all'anno tra a breve cominceremo a lavorare su quello del 2018 per il momento di trovare quello del 2017 lo trovate da scaricare gratuitamente sul sito mail app nella sezione risorse sotto osservatorio noi andiamo ad analizzare tutta la mole di 25 miliardi di mail che transita attraverso la piattaforma mail app divisa per settore per andare a vedere su un settore come si comporta e quali sono le medie queste sono le medie del settore turismo vedete diviso per dem ovvero comunicazioni commerciali e newsletter ovvero comunicazioni più editoriali e suddivise anche per tipologia di destinatario cioè B2B misto B2B B2C oppure soltanto B2C queste sono le medie di settore secondo me sono utilissime per chi lavora appunto di quel settore perché potete controllare sulla media voi come vi portate cioè se avete delle performance che sono in linea migliori o peggiori e ovviamente se sono peggiori andare a vedere che cosa potete fare soprattutto perché sappiate che la concorrenza vi sta un po' stracciando se avete delle performance peggiori questo è quanto Maria Chiara la tua parola sulle ultime conclusioni e sui consigli si vedete lo schermo faccio io vai ok vedete lo schermo si si vediamo ok allora sei brevi e velocissimi consigli per tirare un po' di conclusioni e per anche fare il punto su quello che può essere che possono essere un po' di cambiamenti che sono intercorsi negli ultimi nell'ultimo anno in merito ai contenuti primo scrivete tantissimo mentre prima per tutte le aziende che avevano dei blog si contigliavano dei post intorno alle 300 parole adesso il consiglio è di scrivere di più non a caso ma farlo con coerenza costanza e qualità quindi non è importante pubblicare ogni giorno un micro contenuto ma è molto più efficace pubblicare dei contenuti pensati e ragionati con una cadenza che è meno frequente quello che abbiamo visto prima quindi l'influencer marketing il consiglio di collaborare con dei travel blogger quindi con community verticali è un consiglio che darei in questo momento in cui appunto il punto di distribuzione dei contenuti è più problematico rispetto a prima un post organico su facebook ha meno possibilità di essere visto un post organico con una piccola sponsorizzazione di un travel blogger che ha una community molto attiva ha possibilità di essere visto ecco e più possibilità di interazione quello che diceva anche Maria Giola prima bisogna misurare quindi se io produco dei contenuti dovrei ben chiare quali sono gli obiettivi dei contenuti per ogni punto del mio percorso e come li vado a misurare senza misurazione non so cosa funziona non so cosa non funziona e non so se i miei investimenti hanno un senso punto 5 nuovi format sperimentate andate vivo fate delle dirette su facebook create dei podcast ogni contenuto può essere sperimentato ovviamente ragionando degli obiettivi ma non vi fermate anche alla sua foto soprattutto se siete davvero delle aziende che hanno sempre avuto un certo tipo di comunicazione oppure che hanno che sono appena partite la possibilità e la libertà di sperimentare nuovi formati ci permette di attrarre le persone quando parliamo dei contenuti e questo è quello che abbiamo detto prima oltre al budget per crearlo dobbiamo sempre mettere da parte un budget per la distribuzione via advertising proprio perché la distribuzione organica in questo momento è un po' critica quindi il consiglio finale che si rifà anche all'email marketing è quello di investire sui vostri canali proprietari quindi di non affidare tutta la vostra comunicazione a piattaforme esterne come possono essere ad esempio facebook quello di tornare a investire su sito blog e newsletter quindi con i consigli di qui sopra quindi scrivendo tanto investendo innovando e producendo dei contenuti di qualità io direi che per me è finito ok io vi ricordo la pagina qui andare a scaricare il white paper che è questa di slash turismo webinar e darei il via libera alle domande cominciando con la domanda di Mattia che ci chiede quanto è importante ma che ha l'integrazione tra l'online e l'offline nella comunicazione delle strutture del turismo quanto è importante ok allora ovviamente dipende da con chi stiamo parlando quindi con delle persone più o meno giovani ma direi che l'online ha un vantaggio e questo dobbiamo pensare nella nostra strategia di integrazione che è quello di essere misurato nel momento in cui promuovo i miei contenuti su un sito su dei social con le collaborazioni con il blogger posso capire qual è il mio ritorno dell'investimento in termini di visite risultati rich e altro cosa che l'offline ha una possibilità minore però un buon contenuto testuale o fotografico pubblicato di carta può essere molto efficace per intercettare un pubblico come per esempio quello di Bologna quello che ritorno all'esempio che avevamo fatto quella quello di promenade Bologna oltre al sito che appunto intercetta un certo tipo di pubblico quello che è stato costruito su carta quindi una guida ai diversi itinerari della città ha permesso una cosa quella di andare a intervistare e conoscere dei diversi soggetti della città quindi di cooperare col territorio che è qualcosa che il turista un po' si aspetta cioè il turista non si aspetta di arrivare in un hotel e trovare il vuoto intorno ma di arrivare in un hotel in un posto e ricevere dei consigli su un itinerario organico costruito che tocchi più soggetti quindi una pubblicazione di carta di quel tipo può essere una sua un itinerario da sfogliare durante la sua vacanza ma può permettere anche all'azienda di ottenere i contatti con cui costruire delle collaborazioni per promuovere la propria offerta quindi direi che non c'è una risposta unica dipende sempre da quali sono i nostri obiettivi però se per esempio uno dei nostri obiettivi è quello della collaborazione con i soggetti del territorio e questi soggetti magari sono un po' resti all'online questo può essere una buona strategia e poi non è detto che quello stesso contenuto non possa essere trasportato online su piattaforme diverse quindi direi questo ok abbiamo fatto tardissimo oggi quindi chiudiamo qui altre domande perché ne sono arrivate alcune però poi non abbiamo modo di andare avanti se volete ponete pure tramite i social per esempio scrivendo con la menzione mail app e vi risponderemo senza dubbio coloro che chiedono se si possono scaricare le slide sì le metteremo online domani probabilmente se siete iscritti ovviamente riceverete un'email che vi notificherà la disponibilità di queste slide e della registrazione del webinar quindi io vi ringrazio tutti ringrazio moltissimo Maria Chiara e spero che questo webinar sia stato utile alla prossima ciao a tutti grazie mille a tutti buona giornata grazie mille